Non ci inginocchieremo di fronte all'Unione Europea. E' questa la risposta del presidente bielorusso Lukashenko alla comunità internazionale preoccupata da un'escalation armata sul confine fra Bielorusso e Polonia, dove sono accampate 4.000 persone. Sono migranti che sperano di entrare in Europa, usati come armi dal governo di Minsk, accusano la Polonia e l'Unione Europea. Sappiamo che se Dio non voglia commettiamo qualche errore, se falliamo, questo coinvolgerà immediatamente la Russia in questo vortice e sono la più grande potenza nucleare. Non sono pazzo, capisco perfettamente a cosa può portare questo, ha aggiunto Lukashenko. Per la Polonia, che si rifiuta di aprire i confini, si tratta di un attacco da parte del regime bielorusso che mette a rischio la stabilità dell'Europa stessa.